Buongiorno a tutti, ho studiato all'opera, ho questo piano tecnico, però quello è l'appuntissimo all'opera e oggi vi spiegherò come migliorare a gestire il vostro pc. Per prima cosa cliccate qua dove ci sta questo simbolo Poi premete il tasto destro sul computer, aspetta, non ho una cosa, ok, tasto destro sul computer, tasto destro sul computer, selezionate la propria età. Adesso mettiamo in posizioni il sistema avanzate, dopo qua prestazioni, poi qua mettete di sicuro così, qua dobbiamo mettere qua regole in modo da ottenere prestazioni migliori. Vi cambierà lo schermo, lo schermo, infatti vedete se dopo vi piace qualcosa potete mettere in pezzo o mi mette anche questo, ok. adesso se vi scopri, vedete. Adesso si copri, vedete? È cambiato un po' di cose. Adesso si copri, vedete? È cambiato un po' di cose. Per questo è tutto. Arrivederci perché sta fermando.